ciao a tutti e benvenuti ad un'altra pills image of lotus oggi appunto sarà images of lotus newspaper per le notizie allora per chi non l'avesse visto parliamo dei l'espansione ancora dell'universities beyond verranno introdotti i transformers io personalmente non sono fan non penso a conoscere solo optimus prime e basta e so che i cattivi forse erano in desepticon tipo però non so niente altro allora come tematica comune hanno che sono tutti quanti delle creature da una parte robot quindi robot bipedi chiamiamoli dall'altra parte sono creature veicolo hanno però la facoltà di essere dei veicoli particolari cioè che nel tuo turno hanno living metal cioè che nel tuo turno sono sono anche creature quindi sono animati non c'è bisogno di cruarli infatti non hanno crew quindi diciamo che hanno la sfiga che se sono sei nel turno dell'avversario sono in versione veicolo non li puoi animare per bloccare perché non hanno una non hanno abilità crew però è pieno di carte che danno ai veicoli un crew fisso nel senso che dicono che tutti i tuoi veicoli hanno crew 1 e così via quindi si può anche poi riuscire a bypassare questa cosa allora sono comunque creature interessanti e veicoli molto interessanti quindi sicuramente verranno giocati quasi tutti alcuni potrebbero anche provare a diventare dei comandanti allora di interessante hanno appunto il fatto che possono entrare sia da un lato che dall'altro in base al costo che paghi se si paga il costo normale qua in alto entreranno la versione bipede se no puoi fare more than meets di eye e farli entrare praticamente dal lato veicolo poi hanno effetti tutti quanti in comune che praticamente fanno back and forth cioè che si trasformano in bipede poi veicolo bipede veicolo bipede veicolo in maniera che così continui a fare diciamo vantaggio e trick con questa cosa qua allora come al solito c'è una piccola controversia che continuano a uscire con questi universi beyond cioè per quanto riguarda le ristampe e come verranno introdotti e così via allora per quanto riguarda le ristampe di questi qua presumo questa è una previsione nostra non è niente di ufficiale presumo che sia facile perché come quelli di the walking dead che non l'hanno ancora fatto ma di stranger things sì e anche poi quelle di street fire carte che poi diventeranno in lore magic trasformate in magic il tipo creatura comunque robot come già detto in magic si può inserire facilmente alla fine sono incostrutti un golem volendo è un robot tra virgolette quindi in qualche modo si fa passare la cosa la cosa più complicata invece per le cose di one hammer 40k che se andate a vedere i nostri video di appunto in cui parliamo delle notizie quindi delle la pil spassata in cui parliamo appunto di questa cosa qua dell'introduzione di one hammer 40k invece lì è un pochino più difficile la questione di stampa infatti se ne sta parlando allora andatevi a vedere pure lo spoiler tanto lo trovate ovunque basta scrivere transformers magic ve li trovate tutti ve li leggete perché sono davvero giganti devono fare un video magari dedicato a loro ci possiamo pensare e per questa pil è tutto e ci vediamo alla prossima come al solito ciao ciao e fate i bravi